La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, partiamo con la nostra rassegna stampa. Andiamo a guardare la prima pagina del mattino, il titolo di Apertura Mattarella all'Unione Europea bassa ostacoli. Questo chiede il Presidente della Repubblica. Borsa, perdita record, meno 17% impennata dello spread, Lagarde nel Mirino, il Colle, più solidarietà all'Italia. Poi Bruxelles pronta allo stop del patto di stabilità, fabbriche aperte, scioperi spontanei, governi sotto accusa. Centropagina con la fotonotizia, il virus nel sud, senza terapie intensive, superati mille morti, corsa a potenziare i letti d'emergenza. Seconda vittima a Napoli, contagiato anche un bimbo. Il reportage Napoli, il primo giorno senza tazzulele e caffè. Le ordinanze in Campania stoppa ai ricoveri programmati. De Luca chiude i parchi e vuole l'esercito. Dimezzati bus e treni regionali. Di lato, le nuove regole dai negozi alle passeggiate, il caos dei divieti e il caso Covid-19 a 30 centimetri da Trump. Il capo della comunicazione del presidente Bolsonaro, positivo al coronavirus, aveva partecipato sabato scorso ad un incontro con Trump. Di taglio basso, le interviste del mattino, infermieri, lauree sprint per andare subito in corsia. A parlare il ministro Manfredi, che si dice ottimista sul vaccino, l'emergenza ci insegna più fondi alla ricerca. Andiamo avanti sul mattino. In primo piano la BCE, che delude, crollano le borse. Milano fa meno 17, balzo dello spread a 273. La banca centrale non taglia i tassi, aumenta il quantità visi e avverte la risposta allo shock arrivi dai governi. Intanto Wall Street crolla del 10%, nonostante l'intervento della Fed, che ha immesso 1.500 miliardi di liquidità. Le banche centrali hanno perso i superpoteri. Ieri, la giornata più buia, in oltre 30 anni di storia dei mercati, sembra aver segnato una svolta pericolosa dopo anni che l'Europa ha creduto nel whatever it takes di Mario Draghi, mentre gli Stati Uniti non hanno mai perso la bussola della Fed. Prima una BCE poco convinta, che ha ammesso di avere poche munizioni per affrontare una guerra tra Covid-19 e petrolio. Ha spinto l'Eurostock 600 ad un calo dell'11,3%, con 825 miliardi bruciati in una giornata. Per Milano il crollo è del 17%, il peggiore della sua storia. Dal 19 febbraio Piazza Affari ha perso il 42% del suo valore, ma anche Francoforte e Parigi le perdite superano il 12%, con l'euro piombato fin sotto gli 1,11 dollari, da oltre 1,13. Rimaniamo su questa pagina. Salvare i BTP non è il mio compito. GAF è marcia indietro di Lagarda, presidente della BCS figura nel confronto con Draghi e fa schizzare i rendimenti. Un pilota che non ispira fiducia mentre l'aereo balla pericolosamente per le sue turbulenze. Questa è l'impressione data ieri da Christine Lagarda alla maggior parte degli osservatori. Attesa alla prova del fuoco, mentre ormai tutto il mondo è scoppiata la guerra al coronavirus, l'ex avvocato d'affari e ministro del governo francese è uscita male, soprattutto dal confronto a distanza nel tempo con il suo predecessore, il Mario Draghi del whatever it takes. Alla fine non sono state tanto le misure annunciate o quelle mancanti a far affondare definitivamente i mercati azionari, a far schizzare verso l'alto spread e rendimenti. Il tonfo più che da quello che Lagarda ha detto, che pure è stato giudicato insufficiente, dipende dal modo in cui lo ha detto, leggendo in modo visibile i fogli davanti a sé, sbagliando qualche cifra e soprattutto chiarendo di non volere un bis della sfida lanciata nel 2012 a Draghi nel pieno della crisi dell'euro. Lasciamo questa pagina, lasciamo quindi l'economia, andiamo avanti sempre sul mattino, andiamo a vedere che cosa sta succedendo invece sul versante del lavoro. Fabbriche aperte, governo sotto accusa, gli operai sciopero, proteste per la mancata chiusura degli impianti, i sindacati, la salute viene prima, questo dicono, Conte convoca le parti sociali e il governo, le regioni possono fermare gli impianti. Negozi chiusi e fabbriche aperte, di fronte a questa decisione di massima del governo, è scattata un po' in tutto il paese una domanda di fondo, è la salute degli operai? Seconda domanda, siamo sicuri che un blocco a metà delle attività produttive, accorci i tempi dell'emergenza, la chiusura ieri e per cinque giorni di alcuni dei più importanti stabilimenti di Fiat Chrysler, destinati a riaprire lunedì, non ha calmato gli animi. Pochi sanno che in Italia le fabbriche danno lavoro a oltre 4 milioni di persone e che costituiscono il grosso dei 463 miliardi di esportazioni che tengono in piedi il paese. Le proteste per una maggiore sicurezza hanno fatto riemergere dal dimenticatoio la strategicità e il peso del mondo industriale, mettendo in evidenza che se le fabbriche non chiudono, la lotta al coronavirus è di fatto dimezzata. In un'intervista, Giorgia Meloni, sarebbe stato meglio chiudere tutto, ha detto che il Premier ci ascolta ma cerca visibilità. la leader di Fratelli d'Italia, ci aspettiamo che nel nuovo decreto ci sia la sospensione di tutti gli adempimenti fiscali. Andiamo avanti, sempre sul mattino, vediamo qual è la fotografia. Virus, oltre 1.000 morti. Studio della ragioneria fuori dal tunnel ad aprile. Lombardia sotto pressione, 127 decessi solo ieri, è totale di 744. Il Veneto invece sembra tenere. In un giorno 2.249 contagi. Il team che studia le misure economiche parla di un picco tra il 16 e il 17 marzo. Andiamo a vedere invece che cosa sta succedendo in Campania, sempre in relazione all'emergenza epidemiologica. De Luca chiude i parchi. Intervengano i militari. Questo chiede. Il Governatore attacca tanti irresponsabili. Serve un impegno straordinario dei militari. Un'altra vittima in città è un uomo di 67 anni. Contagiato anche un bambino di 8 anni. E lasciamo il mattino, spostiamoci sulla città. L'apertura. Virus diffuso dai fedeli, disobbedienti, bellizzi. Il catecumeno morto, 4 a rischio. Bellandi chiude le chiese. Di lato. Cirielli. Io positivo, piango per mio figlio. Poi il bilancio. Primo caso a Salerno. Altri 3 contagiati. La sicurezza. Ladri e truffatori. L'ora degli sciacalli. E ancora. Io resto a casa. Grattacaso guida per non abbattersi. Sempre di lato. Andiamo a Sarno. Maxi rogo di rifiuti. Allarme ambientale. Costa parla di eco criminali. Castellabate. Cemento a mare. La superintendenza blocca i lavori. Salerno. Gratuito patrocinio. Pisano. Il Tar lo nega a salute e vita. Poi battipaglia. Total Green. Cancella l'insegna. Treofan. Partono i nuovi. Eboli. Il prof. Abbandonato. Soccorso dai vigili. Trasferito ad Acerno. Di taglio basso. La rivolta del Cilento in fumetto. Un oratorio di Cardile di Gioi. E ripropone una pagina di storia. La scuola italiana di comics. Diamo un'occhiata a cronache. Anche qui si apre con il coronavirus. Si aggrava la situazione. Morti e contagiati a Salerno e provincia. L'ingegnere ricoverato al rugge. Risultato positivo. In ansia una coppia di fratte. E' morto il diacono di Bellizia. Era stato a Sala Consilina. Scattano i controlli. Un'altra persona di San Severino. Ora l'Umberto I è stata colpita dal virus. Centropagina. Dramma. Cirielli. Positivo al virus. Il deputato. Soffro per mio figlio. Fabbricatore e carpentieri. In isolamento volontario. Sempre sul centropagina. Monsignor Bellandi chiude le chiese fino al 25 marzo. Preghiera collettiva alle ore 19 annunciata dalle campane. Restate a casa. Anna Adamo racconta la sua esperienza. Poi dal pizzaiolo Luca Salerno consigli per una buona pizza. con la prima pagina di crona che termina la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio. Riprendiamo la rassegna stampa con la prima pagina del mattino di Salerno. L'apertura virus. Il primo contagio a Salerno. Test positivo al ruggi per un 62enne per un anziano di San Severino. Pasticcio a polla. Stop. Assistenza al da procida. Sarà dedicato ai pazienti di Covid-19 in supporto al presidio di Scafati. Il caso. Il morto di Bellizia. Il ritiro religioso. Corsa per trovare gli altri partecipanti. Centropagina. Il coprifuoco. La città deserto di paura. Napoli triste e necessario. Questo dice il sindaco. Ma ancora troppi violano i divieti. Sempre su centropagina. La testimonianza. Cirielli infettato. Mi sento in colpa per la mia famiglia. Il deputato di Fratelli d'Italia sta bene. Ora la febbre è passata. Sono un freddo. Ma stavolta le certezze vacillano. Ansia dunque per compagna e figlio. Poi la sicurezza. Bustano alla porta. È per il tampone. Ma la prefettura dice di stare attenti. Perché è una truffa. Di lato la fede Bellandi chiude tutte le chiese. Segnale forte ma doloroso. L'economia. Servizi pubblici, edilizie e trasporti. 62 mila lavoratori. Sempre in trincea. Lasciamo la prima pagina del mattino di Salerno. Andiamo a vedere l'epidemia al ritiro religioso. Prima di morire. Ora si cercano tutti i partecipanti. Il 76enne di Bellizzi deceduto martedì a Battipaglia da Stato ad Atena Lucana ad un incontro neocatecumenali. Corsa spasmodica nel ballo e in tutta la provincia per rintracciare chi ha avuto contatti con l'anziano. Andiamo a vedere. Il primo decesso da coronavirus nel Salernitano ormai non è più una questione che riguarda solamente Bellizzi dove l'uomo risiedeva o Battipaglia dove l'uomo è morto. Adesso infatti è su tutto il territorio della provincia che si cercano i potenziali contagiati del 76enne morto lo scorso 10 marzo. Da quando il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpi ha diffuso la notizia quindi è iniziata una ricerca forse nata per evitare che il contagio potesse estendersi ulteriormente nel Salernitano dove i numeri sono stati finora contenuti. Innanzitutto fra i parenti dell'uomo, moglie, figli, rispettivi nuclei familiari tra cui i nipoti che hanno frequentato Battipaglia e Giffoni sei casali rimasti al suo fianco fino all'ultimo istante. E quindi ansia per un parro che un catechista hanno la febbre in quarantena familiari e amici dell'uomo di fede. Rimaniamo su questa pagina, bussano a casa e per il tampone la prefettura, attenti sono truffatori, segnalati diversi atti di sciacallaggio, tentativi di furto, la protezione civile avverte i cittadini, non aprite la porta. Andiamo a Battipaglia. Carciofi, pomodori e rucola, dopo vent'anni d'attesa nasce il distretto di qualità via libera dalla regione, un valore aggiunto per l'agricoltura. Le eccellenze della Piana del Sele accederanno ai fondi dell'Unione Europea. Ebboli, sosta gratis nei parcheggi, si paga solo al multipiano. Ponte Cagnano-Faiano, ponte sull'Asa, prossima riapertura, virus, Lanzara sospende i tributi locali. Capaccio-Pestum, riecco le sfere geodetiche, ora serviranno alle scuole. E poi Sassano, schianto in Germania, muore un camionista. Terribile lutto a Sassano per la morte di Girolamo inglese, 61enne, camionista deceduto in un incidente stradale in Germania. Sposato, padre di due figli, è stato vittima di un tamponamento lungo un'autostrada nei pressi di Francoforte. Gli inquirenti tedeschi stanno cercando di ricostruire la dinamica. Da una prima ricostruzione, il 61enne era fermo a bordo del suo auto articolato, quando è piombato sul veicolo un altro mezzo pesante che ha distrutto il mezzo e schiacciato la cabina. I due mezzi si sono accartocciati e le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, primo soccorso, sono servite ore, oltre due ore di lavoro, per l'uomo che lavorava per un'azienda di trasporti di Salerno non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate dal tamponamento. Andiamo a Centola, Palinuro, chef morto in Francia, autopsia ancora dubbi. L'autopsia sul corpo di Mario Fusco, nessuna indiscrezione, trapela sull'esito dell'esame eseguito su disposizione dell'autorità giudiziaria francese. Il giovane chef è stato ritrovato senza vita martedì scorso alla periferia di Montpellier a seguire l'indagine percorso della famiglia e il consolato italiano. Per conto della famiglia è il consolato italiano, difficile stabilire quando la Salma otterrà il permesso per essere trasferita a Centola per i funerali. Forse rimarrà oltre i confini italiani fino a lunedì, ci sono elementi su cui far luce prima di archiviare il caso come incidente stradale. Lasciamo il mattino, spostiamoci su cronache. In primo piano, controlli a tappeto scattano le denunce, provvedimenti in tutta la provincia di Salerno, a eboli denunciati titolari di due bar che proseguivano l'attività a ballo della Lucania, denunciati cinque cittadini non residenti nel comune, quindi controlli serrati per far rispettare il decreto del presidente Conte, la Polizia Municipale di Salerno sta continuando a svolgere una serrata attività di controllo del territorio e delle attività per assicurare integrale rispetto delle ordinanze emanate dal Governo e dalla Regione Campania per il contenimento del coronavirus. Nella giornata di ieri, ad esempio, è stata individuata e denunciata una persona per violazione della quarantena fiduciaria, ma sono tantissimi i controlli fatti in tutta la provincia, i controlli che hanno portato a oltre 63 denunce. A Sala Consilina giocavano a carte davanti ad un bar, sono stati denunciati. Un giovane invece ha aggredito i carabinieri a Sassano ed è stato arrestato. Andiamo avanti. Sempre su Crona, che è sempre in tema di coronavirus, aule virtuali con Microsoft Teams, così l'Università di Salerno diventa telematica. Da lunedì i 17 dipartimenti attivi daranno inizio al semestre a distanza. Boom di adesioni al lavoro agile in virtù dell'emergenza coronavirus soddisfatta la CISL Università. Sono centinaia le unità di personale che stanno usando tali misure. Spostiamoci a Pollica, rilancio del turismo e risorse giovanili, le priorità del primo cittadino Stefano Pisani al lavoro per un piano di rilancio dopo questo periodo di stop. Sassano, un 61enne perde la vita in un incidente stradale a Francoforte, l'uomo era alla guida del suo camion. Castelnuovo-Cilento, Tonia Morinelli, questa sera sarà protagonista del quiz L'Eredità, tenterà di arrivare alla ghigliottina. Poi lo sport, 134 anni fa nasceva a Capaccio Camillo Bertarelli, ciclista professionista, arriva ottavo al Tour de France, poi a Agropoli, la giunta Coppola approva il patto per la lettura, uno strumento che ha come obiettivo la creazione di una rete. di taglio basso, lavori pubblici, riapre il ponte sul fiume Asa, Ponte Cagnano, ad annunciarlo il presidente estrianese, attualmente chiuso a seguito delle operazioni di verifica statica delle strutture, la riapertura è prevista per la prossima settimana. Termina così con cronache la nostra rassegna stampa, vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro buona giornata.